Ho sempre pensato che durante l'incontro fra le persone e gli oggetti del museo il mio ruolo fosse secondario e che l'importante fosse mettere al centro della relazione il patrimonio museale. All'inizio di quest'anno, durante un corso di formazione rivolto a un gruppo di 20 ragazzi che avevano meno di 30 anni, ho invece capito che questo mio presupposto non era del tutto corretto. Creava infatti una certa distanza. Le ragazze e i ragazzi che non avevano mai lavorato in un museo trovavano noi formatori lontani, noiosi e volevano sapere più di noi, non solo della nostra vita professionale o del luogo in cui lavoravamo. Ci hanno fatto quindi delle domande. Se potessi, che oggetto del museo ti porteresti a casa? Qual è il momento più bello della tua giornata? C'è qualcuno che accompagna le tue giornate? Qualcuno con cui fai la pausa pranzo? Rispondere a queste domande mi ha avvicinato a loro alle loro esigenze. Raccontare per esempio che raggiungo il museo in bici e che mi sposto con questo mezzo in città con gli auricolari alle orecchie per ascoltare musica e poi confrontarci su cosa ascoltiamo e cosa no ci ha reso più complici. Adesso penso che il mio approccio in futuro sarà differente, non solo più attento alle persone ma anche al mio ruolo di mediatore. Grazie. 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 Grazie.